Caro sindaco Ti scrivo Ti scrivo per dirti che Questo è il bilancio di previsione 2015 di Roma Capitale Numerosi provvedimenti che prevedono al solito maggiori tagli e nuove tasse per i cittadini romani che ormai sono allo stremo schiacciati dai disservizi di una città sempre meno vivibile Probabilmente di questo se ne sta accorgendo anche la maggioranza che fino ad oggi ha vissuto scollegata alla realtà perché stamattina si sarebbe dovuto iniziare la discussione sul bilancio ma invece è mancato il numero legale e l'asilo di consiglio comunale è stata posticipata a domani alla stessa ora alle ore 10 Questo ancora una volta dimostrare di quanto questo governo, questo PD che dovrebbe governare la città di Roma è spaccato al suo interno non trovano mai la quadra, non riescono neanche a portare avanti dei provvedimenti non riescono neanche ad essere in 24 che è il numero legale minimo in aula e quindi puntualmente le sedute vengono posticipate per l'assenza dei consiglieri di maggioranza Per questo motivo noi ancora una volta daremo battaglia in Campidoglio su questo bilancio che dal nostro punto di vista non fa che aggravare la situazione di una città già ormai dismessa e allo sbaraglio e domani pomeriggio ci saranno i nostri interventi in deroga vi ricordo che fino alle 14 di domani ci potete inviare delle mail con le vostre segnalazioni, con le vostre lettere Caro sindaco ti scrivo in cui comunicheremo a Marino quello che è la volontà e quelle che sono le esigenze dei cittadini romani speriamo così di portare la voce di tanti cittadini in Campidoglio e far capire a questo sindaco, a questa maggioranza che sono sempre scollegati dalla realtà quali sono le reali esigenze e i reali bisogni della città di Roma Caro sindaco ti scrivo ti scrivo per dirti che ti scrivo per dirti che 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 Grazie a tutti.